I presidenti sono burattini, mentre i veri dominatori governano da dietro le scene. I veri dominatori sono quelli che controllano il nostro sistema monetario e quello dei media. Una piccola manciata di persone, costituita principalmente da massoni, che comandano e controllano la vasta maggioranza delle banche nel mondo, dei media. Come è maledettamente facile dimostrare questo fattore del controllo da parte dei massoni, c'è anche un altro fatto incredibile, che è stato ottenuto lontano dall'umanità per 500 anni. Questo fatto è ancora più schiacciante, facilmente dimostrabile. È anche il risultato diretto del controllo dei massoni sulle menti delle masse a livello mondiale. È il più ridicolo ed il fatto più censurato nella storia. Se questo fatto viene conosciuto dal mondo, semplicemente questo fatto ha la forza di trasformare completamente il mondo e tutti quanti in esso in meglio, holisticamente, in una miriade di modi. I dominatori sono ben coscienti di questo ed è esattamente così che questa verità è stata tenuta nascosta in modo esperto per così tanto tempo. È la verità di chi siamo, da dove veniamo, il vero significato e la posizione dell'umanità, della Terra, del Sole, della Luna e delle stelle. Il fatto è che la Terra è piana, inamovibile. L'uomo è la rivelazione che alla fine rompe la matrice. Vi è stato insegnato fin dalla prima età che vivete su un globo rotante, che la NASA ha inviato uomini sulla Luna e che voi siete il risultato del Big Bang, un'esplosione che ha creato tutto quanto, dal nulla. Se, dal nulla, siete lontani dalla verità. Le immagini e i video che vengono presentati al pubblico dalla NASA e dalle altre agenzie spaziali governative sono vere come i film di Hollywood e le cose scientifiche come fantascienza. I fatti scientifici, dall'altra parte, dimostrano la Terra piatta. Ci sono centinaia di prove ed esperimenti scientifici che mostrano definitivamente che la Terra è un piano stazionario. Ma voi non avete e non potrete mai visionare questi esperimenti censurati attraverso i nostri media controllati. Sono state fatte misurazioni ripetutamente nel corso della storia. Innumerevoli volte, test sulla presunta curvatura della Terra in ogni momento hanno dimostrato che quello che sperimentano e ci dicono i nostri occhi è vero. La Terra semplicemente non curva in basso. Questa fantomatica curvatura esiste solo nelle lenti occhio di pesce, nei filmati che costantemente costipano, nelle immagini grafiche computerizzate fasulle della Terra che divulgano costantemente. Il globo rotante è in ogni argomento e ci siamo abituati a difenderlo. È semplicemente pseudoscienza travestita da verità. Milioni di persone nel mondo intero si stanno risvegliando con questa incredibile riscoperta. Vi incoraggio di avere il coraggio di esplorare questo affascinante argomento. Provate voi stessi. È abbastanza strano che oggigiorno nel mondo ci sia un'area molto più grande degli Stati Uniti che non è mai stata vista da essere umano. Che non è mai stata vista da essere umano. Penso che è abbastanza sorprendente perché sarebbe un'area abbastanza grande da sfruttare. La vigilia del neoessere libera la tua mente. Esci dalla matrice due pillole una blu una rossa. fai la scelta la pillola blu paura ignoranza addormentamento la pillola rossa consapevolezza conoscenza impara la verità. e la 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 Grazie per la visione!